Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alex Z e oggi volevo dirvi un po' di informazioni sul mio canale di YouTube. Innanzitutto iniziamo dal problema che non parlo nei video perché io non ho la PS3 in camera mia ma la possiedo nel salotto e non ho spazio per mettere microfono, computer, vi faccio un esempio, il computer lo metto a terra e non ho quindi possibilità di mettere microfono perché sono lontano dalla tv. Potrei solo commentare come sto facendo adesso qui nei video quando edito, quello posso farlo sicuramente. Stavo pensando anche di fare qualche gioco sul pc, giochi online perché il mio computer non è molto potente, infatti alcuni video ci sono dei piccoli lag quindi potrei fare giochi online che non utilizzano molta scheda video, che non affaticano lo schermo, questo sì. Poi volevo dirvi anche delle informazioni su GTA Online che ringrazio a molti miei amici che mi stanno facendo davvero compagnia in questi giorni, in editmatch e in tutte le altre attività. Poi se volete aggiungetemi su PSN, il mio ID lo metto in descrizione perché così possiamo giocare insieme con la mia crew, io sono la crew di Bistard. volevo anche dirvi una cosa che mi è successa ieri sera, non sapevo di aprire dei reclami su copyright e questa è una cosa molto brutta sinceramente perché ho dovuto togliere e mutare molti video, anche quelli di... anche video recenti che non sapevo di aver commesso questo reclamo, cioè... infatti ho mutato il video, se l'aprite si sentirà la canzone che era di YouTube e poi si sentiva in YouTube perché non mi andava di toglierli del dubbio. Volevo ricordarvi che a 100 iscritti, come ho messo ieri nelle annotazioni dei video di Plants vs Tombi, farò il blog a 100 iscritti, vi farò vedere. Se volete farmi qualsiasi domanda, la potete fare qui sotto in questo video, scrivendo chiocciola alex, così risponderò a tutte le vostre domande nel vlog, perché questa cosa a me fa molto piacere. Spero di raggiungere i 100 iscritti e di soddisfarvi in tutto e per tutto. Ho detto tutto, un saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!